...e fin da adesso partiremo subito con un appoggio, quindi comincia ad organizzare i stati progetti, un vincitore per ogni tema. Non sapevo se veniva in ufficio o in via di ufficio, capito? Si però fa meglio, fa meglio. E tu? Noi parliamo... Noi parliamo quando vuoi, quando vieni. Ci mettevo lì, parliamo, ti ispiriamo, ti faccio vedere di questa persona che ha le sole tematico, quindi tenete una bella e io per come si fa lo salutare da giuro, c'è problema. Grazie. 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 Grazie.